segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te no ma io dico l'ho detto come premessa che di fatto l'intenzione era giusta però adesso io prendo anche l'ultimo diciamo argomento che è stato utilizzato dal presidente conte il problema esattamente per quelle persone che non possono più diciamo vendere quei crediti c'è nel senso chi di fatto non aveva i soldi perché gli è stato detto è tutto gratuito adesso è in mezzo alla strada ecco perché io dico una cosa e ci vorrebbe anche un po di serietà perché molto spesso quando si fanno che si fanno degli errori si uno li ammette allora il provvedimento aveva una sua logica però ammettiamo che probabilmente per superficialità per perché non c'era l'esperienza di governo è stato fatto male e adesso bisogna rimetterci mano però questo è un problema che riguarda anche altri argomenti perché poi lei dice che non ci sono state frodi non lo sappiamo ancora però se andiamo a vedere tutto quello che è avvenuto sulle sulle sui bonus io leggevo oggi se lei legge sul giornale ci sono stati 400 mi faccia finire mi faccia finire sulle ci sono stati 440 milioni di frodi no 440 milioni di frodi rispetto a bonus 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 allora il problema qual è guardi ha letto male il dato è molto di più su certi argomenti no allora allora arriverà davico ci spiegherà tutto sì ma adesso io però sto parlando io va bene allora il problema qual è è che quando noi andiamo a toccare argomenti così sensibili provvedimenti così sensibili evidente che tu devi metterci una maggiore attenzione devi evitare che dopo due anni tre anni banca italia dica il problema nasce con il governo con il secondo governo allora scusate una domanda prima della risposta di salusti o di minzolini parlo di banca italia allora la risposta ai conti poi voglio fare una domanda prego giornalisti sono abituati a fare domande ma non risponde non ci hanno detto come si raggiunge il green deal europeo l'efficientamento energetico per carità stralciamo però attenzione ma sa quante frodi sono state sui sussidi ambientalmente dannosi 30 miliardi per il fossile cosa c'entra se lei introduce qualsiasi agevolazione non può cambiare da una parte all'altra parliamo di questo abbiamo detto che non ci interrompiamo grazie allora sul super volus l'efficiente meno del 3 per cento sul super volus sull'ambottare complessivo una sciocchezza qualsiasi agevolazione ovviamente però le sto dicendo che oggi ritorneremo col meccanismo di resto non solo i solo i ricchi potranno agevolare tutte beneficiare di queste agevolazioni perché devono essere capienti sul piano della dichiarazione redditi ma poi ritorneremo a quei meccanismi in cui c'era sempre il furbetto che gli dirà professionista io non voglio criminalizzare nessuno però dirà a quel punto lì il prezzo è questo se c'è fattura fa parte di un pacchetto che esistano le frodi qualsiasi cosa fai presidente